8 febbraio 2022 e siamo a Cimino 2636 metri sul livello del mare e in questa seconda discesa secondo video vedremo proprio la discesa da Cimino fino a Borgio e siamo sulla pista B2 stella alpina pista rossa e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su Twitter e perché no anche su Instagram vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo l'attrezzatura che vogliamo so radiation Grazie a tutti. E qui siamo sulla pista D2, Primont, anche questa è una pista rossa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a fare la D3, Primont, pista rossa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E qui siamo sulla stradina di raccordo S3 tra la Primont e Rocca, tratto di pista rossa. Grazie a tutti. Andiamo a fare la pista A1, ovvero il primo tratto della Mitcastelvio. Grazie a tutti. 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 il tratto A2, sempre pista rossa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ora andiamo a prendere la pista I, Bosco Basso, pista blu, facile. Grazie. 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 pausa. E qui siamo tornati sulla pista Stebbio nel tratto A4. Grazie. Grazie. Siamo arrivati alla funeria di Borgno, anche questa discesa è finita. Ci vediamo alla prossima. Ciao!